Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nella lezione di oggi andremo a imparare come utilizzare il sensore di umidità del terreno con Arduino. Questo sensore è utile per monitorare l'umidità del sottosuolo di un orto oppure di un semplice vaso con una piantina. Può essere anche utilizzato per calcolare la conducibilità di un liquido. Infatti se visto da più vicino questo sensore è dotato di due sonde una positiva e una negativa ovviamente placate in metallo perché quello che farà il sensore è andare a calcolare la differenza di potenziale appunto ai capi di queste due sonde. Infatti ragazzi sapete anche voi che l'acqua è un buon conduttore di elettricità infatti se il terreno è più bagnato si avrà una differenza di potenziale maggiore ai capi di queste due sonde è di conseguenza un segnale in uscita con una tensione più alta. Il compito di questo sensore infatti è andare a calcolare la conducibilità del terreno e di conseguenza con questo si può appunto andare anche a calcolare la resistenza del terreno. Se lo guardiamo da più vicino è dotato di tre pin. Il pin più a sinistra è quello del segnale in uscita appunto della differenza di potenziale calcolata dal sensore che verrà poi mandata ad Arduino. Il pin centrale è il pin di alimentazione perché questo sensore funzioni si può alimentarlo dai 3,3 ai 5 volt. Per quanto riguarda la tensione in uscita bisogna tenere conto appunto che un po' di corrente viene sprecata dalla resistività del terreno e infatti abbiamo una tensione di uscita tra i 0 e 4,2 volt. Infine il pin più a destra è il pin del ground. A questo punto ragazzi procuratevi un Arduino Uno, un sensore di umidità del suolo e dei cavi. Qui noi abbiamo un cavo femmina-femmina e un cavo maschio-maschio. L'ideale sarebbe avere un cavo femmina-maschio per poter collegare appunto il sensore ad Arduino. Andiamo ora a vedere come andare a ricreare i collegamenti. Come prima cosa andiamo a prendere questo cavo femmina-femmina giallo, lo colleghiamo al pin del sensore con la scritta S del sensore di umidità del terreno. Lo colleghiamo appunto al cavo maschio-maschio per poter effettuare il collegamento sulla shield di Arduino e lo colleghiamo al pin A1 di Arduino. Questo qua analogico. Successivamente prendiamo il cavo rosso e colleghiamolo nel pin centrale sull'alimentazione. lo colleghiamo al cavo maschio-maschio e infine lo andiamo a collegare ai 5V di Arduino. Per ultima cosa andiamo a collegare il cavo blu al ground di Arduino. Il cavo blu l'abbiamo collegato al pin qui alla vostra destra del sensore. Quindi lo colleghiamo al ground. A questo punto i collegamenti sono terminati andiamo a vedere come scrivere il codice adatto per far funzionare questo sensore. Nella parte codice come prima cosa andiamo a definire il pin di Arduino al quale è collegato il sensore. Quindi scriviamo define sensore A1. Successivamente andiamo a inizializzare una variabile int umidità a 0. La inizializziamo a int perché comunque dei valori con la virgola non penso ci siano molto utili. L'importante è riuscire a vedere più o meno a che livello di umidità è il terreno in una rappresentazione in percentuale. Poi andiamo a definire il void setup con il serial begin a 9600 baud appunto per inizializzare la comunicazione seriale tra Arduino e il nostro computer. Nel void loop andiamo a raccogliere il dato proveniente dal sensore di umidità quindi scriviamo analog grid sensore perché appunto stiamo leggendo da un pin analogico e lo salviamo in umidità. Una volta allocato il dato in memoria dobbiamo rimappare questo dato in una scala da 0 a 100. Per fare questa cosa qui utilizziamo la funzione map. La funzione map prende appunto il valore in ingresso quindi umidità. Questo secondo valore l'abbiamo impostato a 0 perché appunto quando il terreno non è bagnato il sensore comunque manda un segnale che è pari a 0 e questo terzo valore impostato a 750 praticamente l'abbiamo deciso in questo modo. Abbiamo commentato questa riga del map e siamo andati a vedere il valore massimo che abbiamo ricevuto in ingresso dall'analog grid e più o meno è stato un 750. Quindi abbiamo notato che il range di valori che ci fornisce il sensore sta tra 0 e 750 e noi appunto lo vogliamo rappresentare tra 0 e 100. A grandi linee appunto questo è il compito che svolge la funzione map. Infine andiamo a printare il nostro risultato tramite una serial print umidità, serial print appunto del valore dell'umidità e serial print della percentuale. Infine concludiamo il nostro codice mettendo un delay appunto per rallentare l'acquisizione dei dati. Ed eccoci arrivati al termine del tutorial. Come potete vedere mi sono procurato una vaschetta, un vasetto con della terra e poi il nostro progetto. Se guardate i valori raccolti dal sensore potete notare che l'umidità è allo 0%. Questo appunto è un valore corretto perché non abbiamo ancora inserito il sensore nel terreno. L'umidità del terreno a questo livello ci rimarrà insomma per un po' finché il terreno non si tornerà ad asciugare naturalmente. In ogni modo può tornare utile appunto per una gestione automatizzata di un orto. Quindi quando mi scende la percentuale di un tot per cento io apro l'elettrovalvola e vado a innaffiare la piantina. Un piccolo suggerimento per quando andrete a inserire il sensore. Intanto vedete che se lo tolgo inizia a calare la percentuale. Inseriterò quasi del tutto senza fare andare sotto questa parte rossa delle componenti elettroniche insomma. Perché sapete anche voi che se queste componenti si vanno a bagnare si usureranno. Comunque ragazzi per il tutorial di oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e condividetelo ai vostri amici. In ogni modo noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!